Armati di bandiere, striscioni e degli immancabili panini e birre si sono radunati in Viale Pasteri, tifosi biancorossi. Ce l'hanno messa tutta per accaparrarsi i pochi biglietti disponibili e stare vicino alla squadra nel match decisivo in casa del Crotone. Come avete fatto ad avere questo biglietto? Grazie a lui che si è occupato della pressione. Come ti sei occupato? Sono andato fino a Molfetta per farlo, perché a Bari stava il casino. Cinque pullman scortati dalla polizia e per le quasi quattro ore di viaggio erano tutti ben approvvigionati di vettovaglie. Volevo fare un saluto a tutti gli amici del mercato Santa Scolastica e a mia nonna che sta in pensiero. Ti stai portando tutti dietro a Crotone? Sì, ci porteremo i tre punti come i tre panini che mi sono fatti. Ma soprattutto hanno portato con sé la speranza che il sogno cominciato insperabilmente a fine campionato possa diventare realtà. In partenza con lo spirito di cui abbiamo iniziato, grazie a Paparesta. Consigli da dare alla squadra? Alla squadra oggi? Sangue e sudore ragazzi, sangue e sudore fino alla fine. È come un guerriero che va a fare una guerra, una battaglia che devo vincere e ritorno a casa da vincitore. Questa è la cosa più importante.